Poi che dite Chad? Secondo voi sono premade? Secondo me sì. Porco cane se sono premade. Tazza zombie in... What? Ricorda qualcosa, però non saprei dirti cosa. Guarda, dimmi un secondo che chiudo un pane di cose qua. Via. Avete tutto imbufato la tazza da cui bevi il caffè? Ora mi sento stupido. Dico, what the fuck? Perché il mio cervello non si ricorda una cosa del genere? Non è possibile? Mamma mia Mirkochic, sto invecchiando veramente tanto. Marca futtana. Sto veramente invecchiando. Oh shit, raga. Il mio cervello è in marcio. Non gioca parecchi anni come consigli di cominciare. Secondo me, per ricominciare, dovresti proprio andarti chill, vai in normal, provi cose. Ho tenuto un'anima e sono da proprio oggettivo. Ti ho noto che i 3 da che pari saranno una vita. Poi si tirano 27 anni, ma tu giusto, ma con una professione prende per le cazzate. Ho tenuto un'anima e sono da proprio un'anima, ma tu giusto? quando faccio lo ziggo e si preghi Ma quando faccio tutti questi frame su League? What the fuck? Perché faccio 200 FPS? Perché faccio tutti questi? Allora, lei incontro i Nekton Lui va di Doran Shield, quindi sarà abbastanza pallosa Probabilmente È abbastanza chill, lui non vorrà interagire molto Perché lui dovrebbe basarsi sullo snowball Con io invece che vorrei arassarlo Dargli fastidio Non perdgli le palle Probabilmente sono in late invader red Ah no, invece Era là tutto il tempo Era là per tutto il tempo Il Renekton Qua sto un po' pushando ma Voglio prendere un po' il controllo della selezione Amaro Monte N Grazie mille per l'assubro, bella me Probabile che Ok 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 per ora tutto tranquillo gioca molto safe lui è normale che giochi safe utilizzare cooldown importanti però per questo blocco dice quando la mia è per imbalzare più minimo per troppa paura però devo allo stesso tempo obiettare un minimo non troppo ma un minimo devo obiettarlo si master è probabilmente topside guardate come gioca aggressivo essere Nekton vedete come si è spostato più avanti di prima probabilmente perché master è topside e quindi sa che se trova uno store di mento probabilmente è easy kill per loro anche perché ha più minion eh semplicemente quindi se la sento un po' perché sa che se combattiamo in mezzo ai minion vincerebbe l'ultimo ma è senza boomerang non posso interagire palle ma ho mancato io il boomerang non so neanche come ah livello di vantaggio ma io voglio congelare qua eh putt'a che buono oh intanto signor harley signor harley grazie mille bella sub bentornata bentornata passato benissimo le feste dager league oh che bellezza che bellezza Renetto non ha pushato bene ha ha Cazzo! Eeeh! Si sostiene un po' più alto di quanto io posso fare, però lui ha avuto tutto in teoria... oh mio dio, è livello 4 Rammus! Jesus man! Non pensavo fosse livello 4! Jesus what the fuck? Non fa essere livello 4? Oh fuck! No, questo l'ho trovato molto in extra a livello di sustain, pensavo che non avrebbe sostenato così tanto, forse ero un po' con troppi minion L'imax è a quad si crea W perchè è una spell che vai a spammare molto è una spell che vai a utilizzare in maniera efficace insomma, non c'è veramente motivo per non farlo Io qua non dovevo regalare sta kill, dovevo beccare spendere soldi e poi provare a combattere e interagirci così gli ha dato una chance per tornare in game non Ah, cazzo. Cado. Cosa sta succedendo? Infatti siamo 4-2 con MasteryGard, 3 delle quattro kill degli avversari non è proprio il massimo? Ah, tornato in livello asporto. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Dai, dovrebbe essere abbastanza passibile. Eh, purtroppo i trade così contro Renekton non li vincerò mai io. Perché non è il mio lavoro di Gnar vincerli questi trade. Io dovrei vincere sulla cittada e purtroppo il modo in cui lui interagisce... Ma vabbè, qua che è meglio. Eh, purtroppo contro Mastery e Renekton mi serve prenderli. Non è proprio il massimo come acquisto contro Morgana, però... Che devo fare? Mi hanno preso il XQ del primo item perché è così situazionale i sostegni di Renekton che non ne vale la pena. F*** la faccia dello Slow. Cioè io con i Ninja Dabi... Provide la mellamata a B qualcosa di potente st presenter socialista. andiamo se c'è l'argo crank no mi sono perso la placca dura ma non so dove sia master e quindi non posso espormi troppo per 160 che devo fare muoio letteralmente da master e basta ha fatto tutto il danno master e che non avrebbe neanche fatto differenza e io non potevo far nulla letteralmente nulla purtroppo c'è poco che posso fare non ero in forma me che non era nulla e quindi sono una facile presa e renector non ha fatto letteralmente un cazzo ha fatto 100 0 master e ragazzi inseguono per una kill e invece di farsi la torre hanno inseguito per una kill perché ho preso la e come secondo livello è bruttina sta cosa e Eeeh Eeeh Renekton fa un po' il cazzo che vuole, con il Gordrinker poi ciaone Eeeh il problema è che Renekton ha anche un bel statato in wake top Sì ho aiutato però non è servito un cazzo Eeeh si fa un intera torre top Non abbiamo preso torre né niente Fuck Ma il timing è stato proprio pessimo Da parte mia Perché non abbiamo preso una torre Non abbiamo preso un obiettivo Mentre il messaggio di Renekton è a bot side È un momento perfetto Il Mastery fa il cazzo che vuole nel frattempo Molto lontano ancora Non abbiamo preso un obiettivo Ma what the fuck Ma il taunt Ma intanto non gli è durato un cazzo Oddio Cosa ha maxato sto Rammus? Cosa ha maxato sto Rammus? Sì no Gnard è da meno che non è un granché Era per provarlo un po' Sì e confermo rimane ancora abbastanza mediocre Abbastanza proprio tanto Mediocre Gnardi Non è che non ha più i numeri per funzionare Contro nessuno Neanche ha gli spike decenni Cioè ho fatto Divine Thunder per provare Cazzo è vero oltretutto C'è una cosa che non c'è più Non c'è più il Oh shit Eh niente È là eh Io non c'ho Andrei Ivos in te zio Così la butto là Cazzo cazzo Oh cazzo Oh cazzo Eh Eh ma se rifiutato è un grosso problema Il grosso problema Sto rifiutato Eh niente più frozen male Per fortuna è stupido Master Yi Non ha usato Poteva prendersi un inimitore top Holy shit Poteva prendersi un inimitore top Master Yi Pazzo Perché non ha usato l'Heral Ce l'aveva e non c'era nessuno topside Quattro Era proprio easy Nooo Tremendo Eh sì adesso devo prendere un po' di kill Però Sono ben poco Io sono ben poco Tra almeno 2 secondi Quindi Ho vare l'importante era uscire il masserito totalmente worth totalmente worth se sono morto io per trovare uno shutdown sui cazzo se è worth c'è un limite di ace? allora non c'è un limite ottimale no non c'è niente di ottimale per gnar in verità attualmente il campione penso che si trova peggio dopo il sistema il sistema degli oggetti modificato serio non c'è un singolo oggetto che vada bene per gnar a livello di power spike ho messo una merda il suo virrate è un riflesso di sta cosa e devo pushare topside però il problema è che il drago è già up e se lo picchia no? non che se ne faccia molto mastery è più che altro Renekton e Jhin no povero Luciano avete abbandonato? i cazzi la fa da solo Luciano quanto pare troppo grigio troppo grigio troppo grigio troppo grigio abbiamo il tempo sì dobbiamo andarci subito senza Luciano secondo me è un grosso non sono molto sicuro che sia un gran che come se ha sisi sì dobbiamo andarci subito qui no No, probabilmente attaccheranno mid. No, probabilmente attaccheranno mid. Non so neanche io perché ho flashato. Non so neanche io perché ho flashato. Non so neanche io. Non so neanche io perché c'è la parte linea. Io ho preso un last hit tra questi. No, la Virtua 3 non è buona. Non so neanche io. 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 Ok, non possiamo andare. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. quello è proprio spicy prenderlo che fa? quella è indietro? oh di jking grazie quella su di bella man scusate sono un po' concentrato perchè io che sto facendo schifo e poi scelgo anche un casino in un cazzo come snar ahhh il rimbalzo fuck non so come cazzo ho sbagliato il rimbalzo ho sbagliato il rimbalzo ok ok per fortuna non ho flesso camille top è troppo broken è bella forte camille top è che mi annoia molto in fretta giocare semplici campioni è sempre stato il mio difetto lo sapete perchè non uso set? perchè non mi diverto non mi diverto a sfumare un singolo campione mi avete visto giocare con set? so giocare set eeeh ma zio! ok come cazzo è? ah la danza della morte la danza della morte è morto è morto dalla dead dance che morte triste quella per la dead dance è morto 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 bad game renekton ahahahah quando scrivono bad game sono top lane quando il top lane scrive bad game vuol dire che è tintato ma proprio male assurdo comunque che sono riuscito a a uccidere masterino non vi uno what the fuck ma è 15 cazzo uff wow il fatto che sia così alto di danza